Faccio l'appello di chi non vedo in video, gli altri li ho già segnati perché li vedo in video. Marco Giannotta, Molendini l'ho visto ora. Buongiorno a tutti Presidente. Ciao, ciao Assessore. Giovanni Occhineri, Gigi Valente e Sanjev Culari. Questi non vedo in video, per ora sono assenti. Prego Cosimo. Faccio io l'appello, Commissione Statuto, ho visto tutti tranne Giannotta Marco, Fiore, Giordano, Occhineri, Valente e Culari. Poi gli altri li ho visti tutti. Perfetto. Bene, allora diamo l'avvio a... Se dovessero venire ci danno la presenza. Sì, certo. Presidente, allora diamo l'avvio a questa riunione congiunta traffico-statuto per una serie di proposte di modifica del regolamento ZTL presentate da alcuni consiglieri ormai da tempo e che finalmente hanno trovato una, come dire, sistemazione anche perché sono stati presentati in tempi successivi. Allora, ringrazio l'assessore De Mattese per la sua presenza. Ovviamente non vedo il comandante Zaccheo, la convocazione dovrebbe essere arrivata. Allora, io ho sotto gli occhi, avete tutti ricevuto le proposte di modifica, abbiamo dieci proposte che sono numerate da uno a dieci. In realtà, io sono andato a guardarle un po' dentro e ho visto che, come dire, l'ordine non è proprio l'ordine, diciamo così, del regolamento, degli articoli del regolamento. Per cui, adesso, io chiedo stesso ai presentatori da quale proposta intendono iniziare. Io ho visto che la proposta numero sei contiene la delibera numero uno e la numero sette la delibera numero due. Forse converebbe iniziare da queste, però io lascerei ai presentatori, come dire, la scelta di quali proposte di modifica presentare per prime, discutere per prime. Sì, in effetti, ho notato anch'io, diciamo, che l'ordine di numerazione non corrisponde né all'ordine di presentazione né all'ordine cronologico del regolamento. In particolare, la proposta numerata come numero uno fa riferimento, peraltro, all'articolo del regolamento numero undici e chiaramente non sarebbe funzionale partire da lì. Secondo, secondo me, la soluzione migliore è partire da quello che è elaborato come articolo sei, che l'ordine di proposizione è il numero uno e trova una certa organicità nell'insieme del regolamento, in quanto è un articolo aggiuntivo che, se dovesse essere approvato, chiaramente si trova a modificare l'assetto complessivo del regolamento. Perfetto, anch'io concordo, avevo già individuato nella proposta numero sei, quindi io vi pregherei, per maggiore contezza, di andare, le avrete scaricate in qualche modo, le avrete sul computer, alla proposta numero sei, che riguarda appunto l'inclusione di un nuovo articolo non presente nel regolamento ZTL. Allora, io pregherei un proponente di proporla, in modo tale che poi sentiamo un intervento, sentiamo la posizione del governo, un intervento a favore, uno contro, e poi andiamo al voto, vediamo di essere, come dire, operativi, di non dilungarci eccessivamente, facendo comunque una discussione che sia il più possibile comprensibile e comprensiva di tutti i problemi. Gianmaria, mi pare che tu sia presentatore del numero uno anche. Sì. Chi di voi vuole presentarla? Posso iniziare? Visto Giannotta. Allora, diciamo, questa proposta di modifica riguarda l'introduzione di un articolo aggiuntivo. Nella fattispecie, un articolo che va ad essere inserito all'articolo 17 al posto del veicoli esenti che viene posticipato al numero 18, qualora approvato. Questa proposta parte da un presupposto. Come abbiamo avuto modo di discutere nei mesi precedenti, il regolamento ZTL si propone di creare, almeno sulla carta, almeno in teoria, maggior vivibilità e, corrigetemi se sbaglio, una maggiore sostenibilità, modificando in qualche modo o riducendo quelle che sono quello che è il traffico veicolare all'interno della ZTL. Ora, su questi principi nulla a question, però è indispensabile, oltre a questo argomento, fare salvo anche altri principi. Il concetto di sostenibilità mal si adegua ad altri concetti che sono organici adesso, in particolare facciamo riferimento alla tutela del lavoro e alla salvaguardia di quelle che sono le attività lavorative che si trovano nel perimetro della ZTL. Nella fattispecie, in questo caso, parliamo degli studi professionali, i quali nel precedente regolamento avevano diritto ad un pass per l'accesso e nel nuovo regolamento, invece, si trovano del tutto sprovvisti. Da qui nasce l'esigenza che ci è stata segnalata da alcuni colleghi, nel mio caso avvocati, ma professionisti in generale che si trovano nel centro storico, che hanno segnalato le difficoltà logistiche nell'espletamento della loro attività da quando è entrato in funzione il nuovo regolamento. Difficoltà è nel rapporto con la clientela, che è ovviamente vincolata a quelli che sono gli orari di apertura della ZTL, e nelle attività, diciamo, ordinarie, logistiche, dell'espletamento del loro lavoro. A questo si aggiunge la protesta scritta, in forma scritta, da parte dell'Ordine degli Avvocati, che è giunta all'attenzione dell'amministrazione comunale, e pertanto abbiamo deciso, con alcuni colleghi, di presentare questa proposta di modifica. La leggo, tanto è molto breve, a beneficio di coloro che non l'hanno letta, i sottoscritti consiglieri comunali, premesso che, in data 37-2020, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per l'accesso alla circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali del Comune di Lecce, che il predetto regolamento è entrato in vigore affardata 1-5-2021 e che è attualmente attivo, che all'interno del regolamento sono previste autorizzazioni alla circolazione al parcheggio da parte di numerose categorie di soggetti, RES, DIM, GAR1, HTL, ART, LOG, MED, ovviamente queste sono tutte sigle che dovrebbero essere abbastanza familiari a chi conosce il regolamento, ma non è previsto nulla in favore dei tanti professionisti, avvocati, commercialisti, architetti, che hanno lo studio professionale nell'area ZTL e che si trovano obbligati a fronteggiare notevoli disagi nello svolgimento delle loro attività. Che non risultano state avviate consultazioni dagli ordini professionali di riferimento in merito alla redazione del regolamento. Si propone di adottare la seguente proposta. Procedere alla modifica del regolamento per l'accesso alla circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali del Comune di Lecce, modificando l'articolo 17, veicoli esenti, che viene posticipato, qualora si è approvato questo, al numero 18, con autorizzazioni di tipo prof ed il seguente testo. Le autorizzazioni di tipo prof sono rilasciabili a tutti gli studi professionali associati e non ubicati nel perimetro presente nell'area ZTL o AP. Contrassegno prof è previsto per tutti gli studi professionali associati e non di tipo legale, commerciale e tecnico presenti nell'area ZTL o AP e consente il transito e la sosta all'interno della ZTL. Tale autorizzazioni sono rilasciabili nel numero massimo di un veicolo se trattasi di studio singolo e di due veicoli se trattasi di studi associati. Posso essere oggetto di autorizzazioni tipo prof i veicoli di proprietà del richiedente. Il possesso dei requisiti dovrà essere certificato dai doni a documentazione probatoria e annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli. Procedimento di rilascio e valità di autorizzazione autorizzazione permanente richiesta presso il settore mobilità, trasporti, viabilità e segnaletica allegando copia fronte reto della carta di circolazione del certificato di assicurazione del veicolo in corso di validità autocertificazione in cui si richiari di avere le caratteristiche previste con la presente tipologia di autorizzazione e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto a ottenere l'autorizzazione ovvero richiesto dalla modulistica appositamente predisposta. La validità fino al venir meno dei requisiti che hanno determinato il rilascio. Questo è il contenuto, Presidente. Credo che sia abbastanza ragionevole credo che sia quantomeno opportuno venire incontro alle esigenze dei professionisti che si trovano nel centro storico che stanno affrontando delle difficoltà reali logistiche che purtroppo incidono sulle loro attività lavorative. Grazie. Grazie, consigliere. Io adesso darei la parola all'assessore per una valutazione da parte del governo e poi un intervento a favore e un intervento contro. Prego, assessore. Sì, grazie, Presidente. Grazie, consigliere Greco, per la rappresentazione dell'emendamento. Io vorrei fare alcune premesse e precisazioni che non sono... Presidente, l'audio? Abbiamo perso l'audio, Marco. Tanto che si riprende l'audio dell'assessore, Presidente, segnalo la mia presenza, occhi neri. Sì, sì, io ho visto, sono tutti presenti, tranne San Jeff Cari. Presidente, poi io se mi posso penotare, Pasquino, dopo l'intervento a favore. Per un intervento, non so se è a favore del conto. Io vi chiederei quando vogliamo procedere. Se noi vogliamo aprire una discussione ampia per ogni proposta, per me va benissimo, decidiamole insieme. Però decidiamolo prima. Essendo firmatato dell'emendamento, avrei piacere di intervenire. No, voglio dire, decidiamo, perché se vogliamo fare una discussione libera su ciascuna proposta di delibera, possiamo farlo. Non è un problema, ci metteremo qualche mese a finire, ma non è un problema per me. Possiamo poi, a altri argomenti, convocare anche una seconda commissione settimanale. Non ci sono problemi. Quindi vogliamo fare così. Allora, discussione aperta, libera su ciascuna. No, no, no. Perché? Meglio una favore o una contro. Io sono d'accordo. Sono molto più preso. Secondo me è più operativo, arriviamo ad una conclusione più rapida. E se no, con tanti emendamenti, va a finire che diventa inutile anche la discussione. È chiaro. Va bene. Io sono d'accordo. Se siamo d'accordo, allora direi che... Presidente, però qualche chiarimento... Presidente Pasquino farà l'intervento a favore e poi qualcun altro farà un intervento contro. e vedremo poi chi è disponibile a farlo. Presidente... Ecco, Assessore, ci sei ora. Presidente, mi scusi, sulle modalità... Scusate, non si può prenotarsi niente? Cioè, non prenotate le piattaforme? No, ma le commissioni non funzionano così. Ognuno ha il diritto di intervenire. Se ritiene di intervenire. Bravo, 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 bravo. Presidente, io non so se la minoranza ha fatto un suo momento di riflessione per giungere poi le sintesi di posizione. Io, in maggioranza, non credo che abbiamo percorso questa strada. Almeno a mia memoria. Magari mi posso sbagliare o mi è sfuggito qualcosa nel frattempo. Sì, probabilmente sì. E quindi avete fatto... C'è stata un'unica di gruppo su questo tema, sì. Ah, ok, va bene. Allora, signori miei, pare che siamo soltanto io e la senatrice ad essere per una più rapida discussione, però se siete tutti concordi nel desiderare una discussione la più aperta, la più ampia possibile, lo facciamo. Non ci sono problemi, non ci sono limiti. Ok, intanto diamo la parola all'assessore se riesce a collegarsi. Sì, grazie, Presidente. Chiedo scusa, ma oggi sono collegato con il telefonino, quindi arriva qualche chiamata. Ho dovuto riflettere la chiamata. Allora, dicevo, alcune precisazioni rispetto al confronto. Lo ribadisco ogni volta, ma pare questa cosa non riuscire ad entrare nelle dinamiche. di accettazione, diciamo, dei modi come è stata presentata. Noi, quando abbiamo avuto l'assemblea pubblica alle officine Cantelmo, avevamo invitato gli ordini professionali anticipando il regolamento. Quindi il regolamento lo avevamo anticipato proprio per avere delle eventuali osservazioni oltre quella che sarebbe stata poi la discussione nel dibattito pubblico. Noi non abbiamo ricevuto nessuna osservazione dagli ordini professionali, chiedo scusa, né tantomeno una successiva richiesta che il consigliere greco ha anticipato in più di qualche occasione, ma io non ritrovo tra le note inviate al settore nessun riferimento, nessuna nota. In data 24-9, 29-4, ossessore. 29-4, io purtroppo non riesco a recuperare questa nota. Io non so se poi magari in forma, quando finisce la commissione, mi vuole dare dei riferimenti che sarà a mia cura come al solito andare ad intercettarla al protocollo in modo da essere edotto anche su quelle che sono state le istanze da parte dell'ordine professionale degli avvocati. Io purtroppo non ho l'attenzione. Se volete la leggo, eh? Se volete la leggo in seduta. Come preferite. Non credo sia rilevante, dai. Va bene. Per quanto riguarda, diciamo, questa proposta e questo emendamento, noi abbiamo discusso molto questo regolamento, sia in sede di commissione che di consiglio comunale. Se lo ricorderanno i presenti della minoranza, se non ricordo male, era il consigliere Greco e il consigliere Giordano Nguil. Abbiamo discusso molto sui vari punti e sulla razio con la quale si è scelto e deciso di adottare determinati provvedimenti, che sono i provvedimenti poi che rispecchiano la zona a traffico limitato, che appunto è essere una zona che è limitante nei confronti del traffico. E tutti quanti abbiamo sempre convenuto sulla necessità non più rinviabile di tutelare sia i nostri beni architettonici che la vivibilità dei residenti del centro storico, che andare ad essere ancora più stringenti per eliminare il tanto annoso problema del traffico, che sappiamo benissimo appassionare le politiche cittadine. Ora noi abbiamo un'unica zona della città dove si... a questa parte introduciamo una zona a traffico limitato che sapevamo tutti essere un po' anomala in quanto funzionante solo nelle ore notturne, fermo restando la validità dell'ottanta per cento delle strade che sono da sempre zona a traffico limitato H24 ma semplicemente non controllate dall'occhio elettronico. Noi quando abbiamo ragionato sulle varie categorie che dovevano avere un diritto o una necessità ad un accesso abbiamo sempre ragionato nei termini di spostamento di carico pesante quindi tutte le categorie oltre ai residenti ai domiciliati ai possessori di passitude tutte le categorie che avevano una necessità di trasportare un carico pesante siamo stati anche abbastanza concordi nell'approvare determinati orari che erano quelli già in essere già in piedi penso alla logistica gli orari per la logistica sono sempre stati molto simili erano 5.30 10.30 15.17 li abbiamo leggermente modificati ma sostanzialmente confermati andando a fare anche un'estensione nei giorni festivi portando l'orario per il carico e scarico dalle 10 fino alle 11 ora fatto questa dovuta premessa non si vede la motivazione la ragione per cui si debba autorizzare una categoria H24 con sosta illimitata perché l'emendamento prevede questo autorizzare H24 senza limitazioni di orario una determinata categoria anzi estenderla a più studi commerciali penso agli studi commerciali non solo legali ma giustamente vengono equiparati tutti perché poi perché lo studio legale e non lo studio tecnico commercialisti architetti geometri comprenderete bene che questa tipologia di autorizzazione ci farebbe fare un passo indietro ma non al vecchio regolamento un passo indietro a quando veniva disciplinato tutto tramite ordinanze quando gli studi associati addirittura avevano un numero indefinito di di passo e quindi comprenderete bene che quei circa tirati tirati 900 posti auto che noi definiamo all'interno della ZTL che poi se dovessimo andare a fare un ulteriore approfondimento per comprendere quali sono realmente i parcheggi e quali invece sono le auto buttate alla rinfusa nel centro storico avremmo sicuramente una riduzione molto importante la vivibilità del centro storico e dei residenti stessi che si va a cercare di tutelare verrebbe meno quindi la valutazione del governo su questo su questo emendamento è negativa perché appunto si fa un passo indietro ma non ripeto non al precedente regolamento ma si ritorna indietro addirittura alle ordinanze che erano vigenzi prima del del 2016 grazie grazie assessore si è prenotato Andrea Pasquino prego consigliere sì grazie presidente in piattaforma ero prenotato anch'io sì vado a vedere vado a vedere ora mi è sembrato che Pasquino l'abbia fatto per primo ma tanto abbiamo spazio per tutti poi ballivo poi rotundo presidente mi scusi mi diceva giusto perché volevo provare a prenotare siccome l'ho scritto in chat ho detto presente non componente sono uno dei firmatari dell'emendamento perfetto vuoi intervenire no 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 non stavo capendo se non riceveva l'audio e il video per prenotarmi eventualmente sì allora Arturo Baglivo allora Andrea Pasquino prego sì grazie presidente io insieme agli altri consiglieri diciamo in generale tutta la minoranza ma in particolare i firmatari e avevamo condiviso appieno la portata di questo emendamento questo perché noi abbiamo ascoltato le tante istanze le numerose istanze prevenute da tutti gli ordini professionali avvocati commercialisti architetti i quali sollevavano le tante criticità che stavano riscontrando da questa diciamo da questa regazione nel potergli permettere di accedere e quindi della tutela del lavoro è vero che come dice l'assessore di questo regolamento ne abbiamo discusso in varie commissioni in vari consigli però non ci dimentichiamo che è preso il posto di tutto quanto quello che diceva l'assessore è migliorabile certo che è migliorabile e sconvediamo passiamo un periodo di sperimentazione e successivamente mi sentite? Bene bene benissimo ti sentiamo bene grazie presidente facciamo un periodo di sperimentazione valutiamo le criticità e cerchiamo di migliorarlo proprio in quest'ottica noi ascoltando appunto come ho detto prima le varie istanze provenienti dai vari ordini professionali tra l'altro istanze manifestate anche in maniera formale c'è stata appunto come diceva il consigliere greco una nota che io sono in possesso in data 29 aprile in cui gli avvocati manifestavano il pieno disappunto a questo a questo a questo diciamo a questo regolamento speravamo che la parola ascolto la parola e valutazione fossero realtà prendiamo atto che il primo provvedimento di postata importante perché è vero che è importante tutelare i monumenti è importantissimo tutelare i residenti è importante tutelare la qualità della vita però è importantissimo anche tutelare il lavoro molti 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 professionisti non ce la fanno proprio saranno costretti ad abbandonare il centro storico e andare altrove se la mentalità dell'amministrazione attuale è quella di distruggere tutto quello che si è creato negli anni con tanti con tanti diciamo eh agevolazioni con tanto riguardo da parte dalle precedenti amministrazioni prendiamo atto e capiamo che la la volontà di rendere un centro storico solo per la solo per gli abitanti che tra l'altro sono anche scontenti per tante situazioni di vari emendamenti che poi presenteremo successivamente eh e che quindi eh che 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 mira all'abolizione completa di tutte le attività commerciali prendiamo atto non possiamo fare altro che cercare di manifestare e ascoltare effettivamente le stanze che provengono dal territorio portarle qui ma se troviamo un muro come lo stiamo trovando adesso purtroppo non possiamo fare nient'altro grazie presidente grazie eh consigliere adesso la parola ad Arturo Presidente ah un presidente poi Gigi Valente vorrebbe dire una cosa va bene dopo rotundo parlerai tu prego Presidente io per carità non non è obiettivo allungare la discussione perché non non è questo io vorrei sapere perché per poter prendere questa decisione che mi sembra importante sapere quanti sono gli studi di professionisti che insistono nel centro storico e che impatto avrebbe soprattutto se ci sono studi associati perché l'elementamento prevede più autovetture per gli studi associati e che impatto avrebbe sui già scarsi posti disponibili per i residenti faccio presente che insomma non si tratta di attività commerciali ma si tratta di studi professionali quindi io immagino che possano ovviamente se sono tanti possono impattare in maniera significativa e sulle possibilità di parcheggio dei residenti questo io penso che vada considerato con molta attenzione perché come giustamente hanno ricordato i colleghi i residenti si trovano in seria difficoltà e hanno proposto degli emendamenti molti condivisibili anche dal sottoscritto e dal gruppo del Movimento 5 Stelle però per poter esprimere un parere su questo mi piacerebbe avere dei dati cioè quanti sono gli studi professionali all'interno della ZTL che tipo di studi sono se singoli o associati e quanto si prevede possa essere il volume di traffico generato e il volume di parcheggio generato io penso che senza queste domande e questo emendamento corre il rischio di essere un pochettino così per leitario ecco perdonatemi se lo dico ma è importantissimo saperlo perché se noi facciamo eccedere tutti i professionisti e non so quanti sono che hanno costo togliamo spazi necessariamente ai residenti grazie grazie consigliere Baglivo Antonio Rotundo mi collego a Baglivo non ti sentiamo bene mi collego a Baglivo si sente? si abbastanza stai vicino al microfono ecco allora mi collego a Baglivo schematicamente questo regolamento entra in funzione il primo di maggio per i successivi due mesi sono stati prorogati i vecchi pass sostanzialmente possiamo parlare che le nuove norme entrano in vigore sostanzialmente dal primo di luglio perché tutti gli aventi diritto dei vecchi pass hanno soffruito della prova ora richiamo proprio per diciamo slogan la situazione precedente la situazione precedente era che noi abbiamo rilevato nei tre mesi ottobre dicembre 2019 660.000 attraversamenti del centro storico ed il dato da cui il consiglio comunale è partito o almeno la maggioranza del gruppo del partito democratico e chi mi parla era la fotografia di 660.000 attraversamenti in tre mesi la fine del 2019 tutti abbiamo convenuto sulla necessità di dare risposta a questo e l'amministrazione comunale ha fatto anche una scelta qual è la scelta una scelta quasi obbligata perché il censimento dei diciamo dei parcheggi in piazze e piazzette del centro storico complessivamente il centro storico può ospitare poco meno di novecento auto questi sono i dati perché sono d'accordo con Baglivo noi non possiamo ragionare diciamo senza avere sotto gli occhi la realtà concreta e quindi l'amministrazione comunale che cosa fa il regolamento di cui stiamo discutendo che cosa fa punta a garantire davanti alla scarsità dei parcheggi in primisi prioritariamente la possibilità di parcheggiare ai residenti fa una scelta siccome sono poco meno di novecento i parcheggi e il vecchio regolamento autorizzava circa sei mila accessi il nuovo regolamento fa una scelta ed ha una priorità si assume perché è facile raccogliere le esigenze le esigenze sono tutte legittime chi governa deve indicare quali esigenze vengono prima degli altri non potendo raccogliere tutte le esigenze e quindi vado rapidamente al punto il punto qual è parlo a nome del mio gruppo noi pensiamo a differenza di altri che il lavoro fatto in consiglio comunale sia stato un buon lavoro ovviamente quel lavoro quel buon lavoro deve essere poi comprovato dalla concreta esperienza deve essere diciamo così provato sul campo deve essere applicato attuato perché una norma una cosa è scriverla una cosa può vedere la sua attuazione e quindi da questo punto di vista noi riteniamo che sia sarà necessario fare una rivisitazione di questo regolamento capire le ricadute concrete della sua attuazione fare che quello che abbiamo definito un tagliante ma dobbiamo farlo mi sia consentito di dirlo sulla base di dati perché noi dobbiamo capire sulla base di dati noi per adesso abbiamo il dato dei 370.000 adesso abbiamo nessun dato rispetto ai mesi scorsi abbiamo soltanto legittimamente anch'io come partito democratico abbiamo incontrato il comitato dei residenti che anche noi abbiamo raccolto disagi necessità di modifiche e quindi il punto qual è? che se noi oggi dovessimo diciamo così recepire il complesso degli emendamenti presentati noi arreceremmo rispetto al regolamento del 2012 quello fatto dall'amministrazione per Roma perché sostanzialmente con questi emendamenti il consiglio comunale raccogliendo tutte le esigenze tutte pienamente legittime sostanzialmente opererebbe un'altra operazione sarebbe una ZTL diciamo così all'acqua in rose da questo punto di vista più legittime io invito gli amici il consiglio comunale tutti i gruppi a darci una scadenza a darci una scadenza da qui a qualche mese e sulla base dei dati che gli uffici ci diranno capire se e in che misura è possibile operare qualche apertura se e in che misura e a quel punto quando noi valutiamo che o riferimento ai posti disponibili o ad altre operazioni che possiamo fare diciamo intorno al centro storico noi siamo nelle condizioni di avere dati noi possiamo valutare se è possibile come auspicabile allargare e raccogliere quale esigenza e a quel punto capire delle diverse esigenze a quale noi diamo delle priorità quindi io consiglio pienamente legittima l'iniziativa di discutere ma credo che discuteremo un po' a moscaceta perché come dice giustamente Arturo Baglino io oggi non ho manco una valutazione tecnica nel momento in cui dovessi dire sì a quante unità decine centinaia quante centinaia da questo punto di vista io ritengo che sia opportuno una discussione quando noi avremo dati significativi sulla base dei quali costituire una concreta revisione del regolamento che abbiamo approvato grazie scusate la unica prego grazie consigliere rodondo la parola al consigliere Gigi Valente io sarò brevissimo a differenza di Antonio rodondo perché condivido in pieno quanto fatto notare da Baglivo e poi agli amici della minoranza faccio una domanda intendete favorire sostanto gli studi professionali e perché i commercianti non devono avere diritto ad entrare in macchina per andare al loro negozio quindi favoriamo soltanto i professionisti i commercianti e gli artigiani poi no e poi di seguito vale anche quanto detto da Antonio Rodondo che bisogna avere a che fare anche con i dati considerato che ci sono pochi parcheggi c'è una differenza però tra il parcheggio e passare sono due cose diverse io passo nel centro storico con la macchina ma non parcheggio o se mi fermo la mattina mi fermo un secondo due minuti cinque minuti e poi riparto mentre invece i residenti hanno bisogno di trovare il parcheggio nel momento in cui decidono di rientrare nella propria abitazione però la domanda è proprio questa favoriamo intendete favorire soltanto i professionisti le altre categorie non essendo magari dei laureati non hanno diritto a niente grazie grazie Gigi io prima di dare la parola a Gabriele Malendini allacciandomi a quello che dice Gigi Valente direi è incostituzionale per usare un termine sicuramente non corretto ma in qualche modo per farmi comprendere nel senso che perché alcuni lavoratori devono essere privilegiati altri no la tutela del lavoro vale per tutti e quindi sì i commercianti ma anche gli impiegati comunali ma anche i consiglieri comunali c'è stata la richiesta in passato per cui oggettivamente come dire favorire solo una categoria non sarebbe opportuno prego Gabriele Malendini grazie presidente in parte stavo per dire una cosa in linea con questo cioè volevo dire che è evidente che il problema a cui abbiamo cercato di porre rimedio viene da lontano viene da lontano perché in passato si è arrivati a oltre 16.000 autorizzazioni con un sistema affastellato di autorizzazioni diciamo sovrapposte e incongrue poi si è arrivato a un a un regolamento che ponendo di mano e allora già diciamo ci fu la proposta dell'attuale sindaco che insomma portò una revisione in senso restrittivo e fu messo in mano nella consigliatura precedente alla prima della consigliatura dell'amministrazione Salvelli dopo il che siamo arrivati con questo regolamento in cui si è ulteriormente razionalizzato ma perché non c'è una volontà ovviamente punitiva ma è un discorso strutturale partiamo dai posti auto disponibili al centro storico che ormai ci siamo detti e ridetti e dalla possibilità di dalla necessità di dover in primo luogo favorire il residente che ci abita e in secondo luogo di avere attenzione nel momento di concedere i vari tipi di autorizzazioni anche occasionali esistenti al movimentazione di carichi pesanti dopodiché tutte le altre modalità che vengono qui proposte io ne ho viste diverse sono una espansione che non ha un carattere di illogicità in sé ma un carattere di incongruità con le finalità con cui è dettata il regolamento cioè se la finalità è quella dato come parametro non modificabile quelli che sono i posti disponibili nel centro storico e questo è un dato di fatto da cui dobbiamo partire che non possiamo modificare allora dobbiamo avere una regolamentazione che se tirassimo per la giacchetta tutte le parti porterebbe a una smagliatura che renderebbe ingestibile l'accesso alla ZTE e di fatto non la renderebbe un traffico limitato se non sarebbe più una zona traffico limitato allora se c'è una razio la razio è quella che ha detto precedentemente l'assessore cioè oltre ai residenti l'indicazione è il carico pesante diversamente se noi ora tendiamo a tirare per la giacchetta il regolamento da altre parti allora io potrei in maniera scherzosa dire che l'ordine dei lavoratori dipendenti nel centro storico a cui appartengo sarebbe lieto di avere una deroga allora a questo punto perché io non riesco a capire perché il dipendente dello studio professionale non dovrebbe avere lo stesso perché lavora anche quello quindi non riesco a capire perché il dipendente dello studio professionale o il collaboratore dello studio professionale non dovrebbe avere lo stesso tipo di attenzione che viene riservata del titolare ma qua non si tratta di penalizzare il titolare si tratta semplicemente di considerare che una serie di persone che hanno un qualsivoglia interesse legittimo ad accedere al centro storico possono fare questo accesso con altre modalità e che se l'accesso fosse per tutti quelli che hanno un qualsivoglia interesse entrare nel centro storico con la propria auto non ci sarebbe la possibilità di gestire la ZTN per cui è stato preso ripeto e chiudo quel criterio dei residenti e dei carichi pisanti come logica guida dopodiché se si deve andare in quell'altra direzione ripeto diventerebbe una un concetto ampiamente modificabile in tutte le direzioni e si avrebbe un numero che come diceva anche prima Antonio Rodondo andrebbe essere addirittura più ampio di quello della precedente modifica del regolamento si ritornerebbe indietro ma indietro indietro e non ce lo possiamo permettere dopodiché dico anch'io che i regolamenti per loro natura sono modificabili questo diciamo non sono scritti sulle tavole sono modificabili però è anche vero per vedere che per stabilire se un regolamento ha necessità di manutenzione o meno deve perlomeno girare io non so se un regolamento che non abbiamo visto in funzione nel corso di un anno può essere congruamente giudicato teniamo anche presente che l'anno in cui abbiamo vissuto è anche un anno molto straordinario cioè i mesi che abbiamo vissuto con questo regolamento che sono pochissimi e sono anche in un anno molto straordinario in cui tutto è stato diciamo molto anomalo rispetto al progresso pensiamo anche all'occupazione di solo pubblico che è stata non conforme a quella standard pensiamo al lavoro di smart working che c'è stato che non è stato come in progresso quindi facciamo funzionare il regolamento per un periodo congolo di tempo che secondo me in feriore all'anno non ha senso e dopodiché si potrà anche mettere mano ma sempre in una logica di sistema con delle regole quadro che lo governino queste scelte grazie grazie consigliere io prima di passare la parola a Giordano Anguilla che l'ha chiesta al consigliere Giordano Anguilla io direi però diamoci una regola visto che abbiamo deciso e siamo ok non ci sono problemi di fare discussioni ampie però ovviamente una volta si è fissolato l'argomento è inutile poi ritornare e ripetere le stesse cose io direi noi abbiamo dieci proposte di modifica del regolamento esaminiamole una almeno una per ogni commissione quindi arriviamo al voto oggi su questa proposta in modo che alla prossima volta passeremo ad una proposta successiva quindi in dieci sedute ce la caviamo io poi mi riserverò di fare una seconda convocazione settimanale ogni tanto perché ci sono altri argomenti per esempio la prossima settimana dovremo parlare dell'incrocio di Giamma di via Foscolo con via Giammatteo e via Vecchia Frigole perché avevamo detto che doveva essere risistemato l'assessorato ha preparato una proposta vuole discuterla in commissione prima di quindi faremo altre commissioni non ci sono problemi da questo punto di vista mi farò prestare qualche ora sempre qualche buco lo troviamo quindi io direi dopo Giordano Anguilla visto che abbiamo anche una votazione complessa perché votiamo per due commissioni anche il presidente Murri dovrà fare il suo appello per la votazione io direi dopo Giordano Anguilla visto che l'argomento è stato sviscerato di passare direttamente al voto prego consigliere Anguilla sì grazie presidente io ritengo che sia giusto procedere così cioè nell'analisi dell'emendamento nella possibilità di interventi da parte di tutti perché ritengo che sia forse più di ogni altra occasione giusto che i cittadini ascoltino il parere del governo e le parole che il governo sta esprimendo punto per punto su questo argomento mi sia concessa una una velata forma di ironia è un po' come se io a casa avessi un problema con la bolletta dell'acqua perché pago troppo di acqua e per risolvere il problema decidessi di chiudere la fornitura dell'acqua poi mia figlia mia madre viene e mi dice sai Roberto però senza acqua cominciamo ad ammalarci nella migliore delle ipotesi o forse moriamo nella peggio delle ipotesi non fa niente intanto chiudiamo l'acqua ecco la stessa cosa noi abbiamo un problema secondo il governo che è un problema oggettivo su questo concordo di traffico all'interno del centro storico e il governo ha deciduto di risolvere questo problema chiudendo chiudendo qualsiasi forma di accesso al centro storico se a voi visto che vi ho sentito difendere le vostre posizioni questo sembra un modo corretto completo articolato politico di ragionare bene sono contento che ogni punto delle degli emendamenti proposti abbia la possibilità di ascoltare i pareri del governo voi con questo regolamento lo dicemmo mesi fa lo ribadiamo oggi e ha avuto modo anche di ascoltarlo in conferenze stampa pubbliche che avete indetto presso l'open space a Palazzo Carapa avete letteralmente gambizzato gambizzato il mondo del lavoro noi oggi ci stiamo soffermando su alcune categorie che sono i professionisti ma non per fare figli e figliastri rispetto ad altri ma cosa che ho sentito dire da diversi interventi dei colleghi ma semplicemente perché siccome le avete gambizzate tutte le categorie per cercare di affrontare il problema abbiamo deciso e ci sono poi gli emendamenti successivi che lo dimostreranno di affrontare le varie categorie ognuna con delle logiche ognuna cercando di proporre una soluzione che attenuasse quanto da voi proposto quindi la proposta di oggi sulle categorie dei professionisti non ci vede agire nella logica del figli e figliastri ma ci vede agire nella logica di affrontiamo questa categoria con una proposta poi affronteremo le altre categorie con le altre proposte nello specifico nell'emendamento noi non chiediamo che chiunque abbia la possibilità chiunque abbia intenzione di recarsi presso uno studio professionale di avvocati di architetti di ingegneri abbia la possibilità del pass chiediamo semplicemente che nel caso di studi professionali con un solo associato almeno quello solo lui il titolare possa avere il suo pass cioè il proprietario il titolare il rappresentante dello studio legale solo lui perché oggi non c'è nemmeno quello e per rispondere al collega di studi associati non è che abbiamo proposto una molteplicità di pass ne abbiamo chiesto uno più uno a scelta indicato sempre dal dominus per fare un esempio degli avvocati il collega Rotundo diceva dove andremmo a sbattere io penso che la priorità numero uno per un amministratore per gli amministratori debba essere quella di essere al servizio della città cosa che questo regolamento non lo è nessuno degli articoli che abbiamo avuto di leggere abbiamo avuto modo di leggere e se per lei collega questa proposta è un salto indietro a prima del governo Perrone mi permetta di dire che il vostro regolamento è un salto indietro al paleolitico quando il centro storico era un deserto quando il centro storico era di fatto una discarica a cielo aperto in ogni suo angolo siccome però ho sentito dire anche che i passaggi sono stati anticostituzionali contro la Costituzione io vorrei ricordare che nella vostra proposta si chiedono 5 euro alle famiglie che accompagnano i propri bambini alla seconda ora a scuola perché se tu fuori le 9 non puoi più entrare salvo che non chiedi 5 euro non versi 5 euro per entrare nella seconda ora a scuola che non sta scritto da nessuna parte 5 euro perché o per come nel senso che è una città però pregherei di attenerci all'ordine del giorno Giordano abbiamo fatto questa discussione in consiglio a lungo per cui fermiamoci alla proposta numero stay accesso per i liberi professionisti Presidente tanto voterete no noi voteremo sì e l'emendamento non passerà fine della storia io lo anticipo le svelo questo le spoiler fa parte della democrazia no? si vota maggioranza certo io le sto rispondendo però sul fatto che lei si è divertito a chiamare anticostituzionale la proposta o il collega Rotundo faceva un salto indietro a prima del periodo perrone ecco su questo vi permetto di rispondere perché se è vero come è vero che voi chiedete 5 euro per le famiglie che accompagnano i bambini a seconda o la scuola se voi se voi contro la legge dello Stato dite che i mezzi elettrici non possono accedere alla ZTL e poi venite a parlare a noi vedete a raccontare a noi che noi facciamo le proposte anticostituzionali beh allora sono contento e concludo che tutti abbiano la possibilità di esprimersi perché è giusto che i cittadini sappiano quali sono le logiche che hanno accompagnato i criteri e i contenuti che hanno accompagnato la stesura di questo regolamento anticipando ovviamente voto favorevole all'emendamento grazie sono pernotato dalle nove dalle dieci posso dire tre parole eh sì certo volevo dire il mio era solo un gioco di parole è chiaro che mettere in mezzo la costituzione per un argomento diciamo così così periferico e marginale è stato un gioco non è non è certo eh eh vogliamo assulgere queste decisioni a a a livello di una decisione costituzionale eh prego io alle undici io alle undici devo abbandonare la commissione tutti ce ne andiamo Paola ha detto brevissimamente e poi passiamo al go grazie no Paola non Paola eh Paola Paola ho detto trenta secondi più che altro sono prontato dall'inizio io non voglio entrare nel merito più di quanto non siano entrati i colleghi di maggioranza e di minoranza che sono intervenuti oggi però voglio fare tre frasi tre flash in pochi secondi per evidenziare l'incoerenza della maggioranza io sinceramente ho sentito parlare in questi mesi di una richiesta di maggiore partecipazione dopodiché l'opposizione giustamente con un lavoro certosino ha presentato ben dieci emendamenti e oggi si parla di rinviare all'anno prossimo quindi una partecipazione decantata annunciata ma poi nei fatti non c'è la volontà la vostra volontà di concretizzarla poi io ho anche letto sui giornali perché adoro leggere la stampa locale fra cui il quotidiano addirittura di un incontro che un partito di maggioranza ha fatto col comitato dei residenti del centro storico per discutere le modifiche del regolamento la conclusione quindi è stata quella di rinviare di un anno le modifiche perché a me non risulta così nella mia profonda ignoranza probabilmente e infine sempre perché leggo tanto i giornali io ho letto in questi mesi proprio da parte vostra che dite rinviamo di un anno ho letto da parte di numerosi esponenti della maggioranza la volontà di modificare addirittura con urgenza leggevo su un titolo del quotidiano qualche settimana fa questo regolamento perché il regolamento è perfettibile va modificato ci stanno tante lacune non solo parole di noi consiglieri di minoranza cari colleghi ma parole soprattutto di voi di maggioranza e dunque io mi chiedo cosa è accaduto in questi ultimi giorni in queste settimane tanto da far cambiare drasticamente l'idea a tutti voi che sono parole sono frasi sono uscite politiche che voi avete fatto non so probabilmente è cambiata la strategia forse avete fatto delle riflessioni diverse però peccate di incoerenza cari colleghi e tutto ciò mi rende perplesso perché a questo punto faccio questo appello al presidente Mola si può anche evitare di discutere gli emendamenti in commissione ma non ne parliamo più purché però ammettiate che in questi mesi avete preso in giro la minoranza e i leccesi tutti perché è la verità e taccio non dico altro buon voto a tutti sugli emendamenti va bene non è così comunque ognuno ha le sue opinioni allora io passerei a voto presidente posso presidente io mi ero prenotato signori miei però così allora facciamolo Oronzino ti do subito la parola però la prossima volta quando diciamo chiudiamo gli interventi sono chiusi e basta quindi dopo Giordano Anguilla erano chiusi gli interventi così non si arriva a me non vi ero prenotato pure io ma rinuncio all'intervento io sarò prego tramacere rapidamente grazie grazie presidente allora mi pare ho ascoltato tutti gli interventi mi pare di aver capito che voterete contro questo emendamento perché non ci sono posti nel centro storico sufficienti a far parcheggiare le macchine degli di chi ha uno studio professionale io vorrei chiedere una cosa se questo è il motivo perché non diamo la possibilità a tutti quanti i professionisti magari allargandolo anche artigiani e commercianti come dice il consigliere Valente a parcheggiare nelle immediate vicinanze facendo un abbonamento alle strisce blu simbolico quasi a costo zero se ci teniamo veramente ai nostri concittadini e se il problema è quello dei posti macchina altrimenti vuol dire che il problema è un altro questa è la mia proposta presidente grazie è un ragionamento logico che si può fare ammazzeremo il commercio ammazzeremo il commercio tenendo tutte le auto dei lavoratori parcheggiate all'esterno dell'azienda Tl ammazzeremo il commercio presidente vedo che andiamo andremo al voto io volevo solamente dare un dato al consigliere e baglivo che sarà utile al consigliere una valutazione dipende da quanto possano incidere gli studi professionali associati e non in termini di parcheggio che è un dato che magari gli ordini professionali dovrebbero fornirci quello che possiamo naturalmente avere come dato certo è già l'occupazione per numero di pass dei residenti e domiciliati che ammontano a quasi 1700 pass a fronte di ribadisco 900 posti auto per essere sempre molto magnanimi nella valutazione del numero di posti auto quindi noi già sforiamo più del doppio senza andare ad analizzare quanto possano incidere realmente gli studi professionali io penso che questo sia un dato di partenza molto utile rispetto a quanto chiedeva il consigliere baglivo per fare una sua valutazione sul voto grazie presidente presidente visto che questo è il problema rinviamo e pensate c'è la mia proposta vabbè se ne può discutere non ci sono problemi ora stiamo discutendo dell'emendamento presentato e dobbiamo votare l'emendamento presentato allora presidente Muri comincio prima io presidente io chiamo alla votazione vai tu vai tu adesso e poi vado io perfetto allora Mola favorevole Costantini è contrario scusatemi Costantini Fraudiano no non è Fraudiano contrario presidente Arturo Baglivo io però devo fare 30 secondi di dichiarazione veramente 30 30 vai noi voteremo no perché riteniamo che sia necessario cercare di tutelare il più possibile residenti e perché nella proposta di modifica non è indicato in nessun modo un termine orario per cui c'è il rischio ovviamente in quell'emendamento che chi abbia quel permesso lo posso utilizzare nelle ore notturne e durante i festivi grazie consigliere contrario Luciano Battista favorevole grazie Gianluca Borgia contrario Sergio della Giorgia contrario Lidia Faggiano contrario Marco Gianotta Antonio Finamore Andrea Guido Guido non lo sento non lo vedo nemmeno va bene magari lo richiamo dopo Natalia Mariano Contraria Severo Martini Rino Martini Martini Rino metti il microfono però se no non ti sentiamo inserisci il microfono favorevole perfetto ti ho sentito ti ho sentito Giulio Mele contrario eh Gabriele Molendini Contraria Giovanni Acchineri Giovanni Acchineri Marco perdonami devi chiudere l'audio sì eh Emanuele Orlando Contraria Giorgio Pala favorevole Andrea Pasquino favorevole eh Pierpaolo Patti Contrario Adriana Polibortone favorevole ah perfetto l'ho sentita Paola Povero Contraria Antonio Rotundo Contrario Gian Paolo Gian Paolo Scorrano Sì per dichiarazione di voto Presidente breve breve dai breve breve non ho parlato mi conceda quei trenta secondi anche a me trenta secondi certo sì grazie Presidente ed è tutto evidente la mancanza di volontà di questo governo di venire incontro alla categoria dei professionisti si sarebbe potuto semplicemente anche ritoccare quell'emendamento concedendo il eh il transito e la fermata non tanto la sosta per i liberi professionisti che ricordo il consigliere Baglivo non hanno orario d'ufficio io per esempio finisco di lavorare spesso a mezzanotte quindi non saprei come potrebbe l'avvocato l'architetto l'ingegnere avere un orario d'ufficio nel quale transitare quindi se se effettivamente ti fosse stata la volontà da parte del governo di venire incontro a questa categoria si sarebbe potuto modificare e andare al voto in maniera diversa come sempre vi contrapponete a qualsiasi proposta della minoranza io voterò favorevolmente rimarcando il fatto rimarcando il fatto che da questa dal governo non c'è alcuna volontà di venire incontro alla categoria dei professionisti così come quella dei commercianti e degli artigiani grazie voto favorevole grazie avranzino a Tramacene favorevole Luigi Valente Gigi Valente allora richiamo quelli che non mi ha risposto ma che risultavano presenti Andrea Guido ci sei? quindi Andrea Guido è assente quindi Giovanni Occhineri Presidente ha scritto che doveva lasciare la commissione ha scritto in chat ah perfetto no no io non riesco a seguire tutte le cose tra chat piattaforma è drammatico va bene quindi assente in questo momento Gigi Valente anche egli assente quindi noi abbiamo tre assenti uno due tre quattro cinque sei sette otto favorevoli e uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici contrari bene allora noi ci riconvochiamo martedì andremo avanti con quell'ordine del giorno poi chiederò un'ora per giovedì assessore vuoi che voti ah statuto scusami stiamo votando votazione su quale emendamento questo proposta numero sei che riguarda votazione proposta numero sei numero sei che riguarda io vorrei leggerti proprio il titolo no no devo solamente votarlo io votazione proposta numero sei sì benissimo proponente c'è scusa lascio la commissione io tanto siete in fase di votazione sì va bene grazie d'accordo grazie proposta numero sei proponente greco ed altri va bene scusami collega Mola proponente greco ed altri sì perfetto benissimo grazie quindi murri contrario giannotta contrario baglivo contrario battista favorevole citraro assente costantini contrario contro paggiano contrario piore assente dall'inizio giordano favorevole favorevole greco per breve dichiarazione di voto prego prego allora da quello che è emerso durante la discussione è chiaro che la maggioranza fa delle scelte politiche è altrettanto chiaro che queste scelte politiche per detta di quello che hanno esposto i vari consiglieri che sono intervenuti penalizza il lavoro o perlomeno penalizza un segmento del lavoro che poi non è nemmeno tanto piccolo perché l'emendamento in questione parlava dei professionisti però come saggiamente ha ricordato anche il consigliere valente ci sono difficoltà lavorative per altre categorie per i commercianti per gli artigiani per i panettieri per gli edicolanti per cui situazioni che affronteremo successivamente in altri in altri emendamenti è chiara quella che è la volontà dell'amministrazione comunale si parla di maggiori parcheggi per i residenti ma a questo punto sorgerebbe spontanea un'amanda sono diminuiti i parcheggi visto che prima erano sufficienti sia per i residenti che per i professionisti l'ultima battuta prima della dichiarazione di voto visto che si è parlato di costituzionalità nella lettera dell'ordine degli avvocati loro che sono un soggetto neutro parlano di costituzionalità e dicono citotestualmente poiché detta disposizione risulta particolarmente penalizzante limitativa e lesiva dei diritti anche di rango costituzionale invitiamo a valutare una modifica dell'ordinanza ora è chiaro che il voto che esprimerò è favorevole però è altrettanto chiaro che oggi l'amministrazione comunale sceglie di penalizzare le categorie lavorative e soprattutto dato più inquietante i professionisti bocciano i professionisti grazie prego collega greco io ho a te ho sentito tutte le dichiarazioni ho gradito quella di tramacere per esempio che quindi dopo questo periodo di prova vedremo di lavorare su alcuni accorgimenti grazie scusate martini collega martini se ti vedo favorevole favorevole d'accordo mele contrario mola contrario molendini presidente una battuta al volo il lavoro viene tutelato dai colleghi del centrodestra tutto il tipo di lavoro tranne il lavoro dipendente che non è destinatario di alcun emendamento voto contrario contrario molendini scusatemi occhi neri occhi neri assente orlando contraria contraria pala favorevole pasquino favorevole patti collega patti ha scritto il chat che deve abbandonare ha abbandonato va bene assente patti assente poli scusi anche io una brevissima dichiarazione di voto la prego mi parlava io sono molto d'accordo con la proposta di tramacere che potrebbe essere non soltanto da valutare per il il parcheggio per il costo del parcheggio quanto anche per eventuali agevolazioni fiscali in ogni caso che si potrebbero anche fare voglio anche dire che ho calcolato nel frattempo sa che i conti sono molto semplici le ore normali di lavoro che ci sarebbero da parte delle diverse categorie di tutti gli operatori che fanno parte delle varie categorie i quali con questo regolamento pagherebbero all'incirca 5.000 euro l'anno di parcheggio ecco se è equo e questo lo dica l'amministrazione Salvemini scusi voto favorevolmente favorevole lei d'accordo ma la proposta tramacere che ha visto un mio sopito silenzio era era anche agevolata come importo non era 5.000 eccessivo sarebbe stato un euro e trenta sarebbe stato no sarebbe stato no quasi va bene durante la situazione nel frattempo va bene va bene va bene grazie povero contraria rotundo contrario vedo il collega Fiore che fa parte di questa commissione io l'avevo data assente collega scusi scusatemi voi no stiamo votando era questo siamo in corso di votazione e l'audio collega all'audio chiuso collega scusatemi contrario contrario Fiore contrario scorrano sì presidente anch'io sono favorevole alla proposta tra macere e a questo emendamento visto che noi siamo cerchiamo di tutelare anche il lavoro dipendente proporrei di estendere la proposta tra macere anche i dipendenti di quegli studi professionali del centro storico quindi non è vero cerchiamo di tutelare un po' tutti è già difficile tutelare i professionisti figuriamoci anche i dipendenti insomma il consigliere Molendini prima di fare queste esternazioni loro non tutelano proprio qualcuno ammazzano il lavoro e basta favorevole grazie corrano favorevole tra macere presidente nel ringraziarla per l'apprezzamento alla mia proposta voto favorevole d'accordo grazie valente collega valente no assente quindi abbiamo quattro assenti quattro cinque sei setto otto nove favorevoli tre sei nove dieci dodici sedici venticinque dodici contrari dodici nove favorevoli e quattro assenti presidente Mola grazie io perfetto grazie presidente Murri abbiamo concluso siamo stati abbastanza rapidi abbiamo fatto una discussione molto tranquilla e serena ci vediamo martedì prossimo sempre riunione commissione congiunta per esaminare gli altri emendamenti grazie a tutti chiudiamo le 11 per gli attestati chiedo scusa come facciamo è inutile per la stessa ora due attestati non ha senso eh sì allora io la mando a mele a Pasquino a me a me a Giallo a Battista a Borgia e e e e credo basta quindi Baglivo allora io oh scusami ci penso io Murri a Baglivo Battista Borgia eh Molendini Mele e Pasquino va bene eh sì sì stai pensando tu a tutti allora perché io se tu hai gli stessi va bene ok ci tranno forse tu hai ma era assente era semplice sì signore grazie grazie a tutti perfetto grazie a tutti chiudiamo alle 11 e 15 arrivederci grazie